Se vuoi supportare il mio canale puoi farlo semplicemente facendo degli acquisti nel shop di Fortnite, acquistando skin, picconi e quant'altro con il mio codice di supporto a un creatore MARSEC supportare il mio canale. Ovviamente non ti sarà tolto nulla, grazie in anticipo e buona visione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.